Il 5 marzo parteciperò con gioia a Just the Woman I Am che dopo due anni finalmente torna in presenza. Sarà la possibilità di riunirci tutti per un obiettivo importante che è quello di sensibilizzare sul valore della ricerca per il cancro al seno e quindi invito tutte e tutti a partecipare numerosi. Grazie per la visione!